Gomorra 3 al cinema Gomorra 3 al cinema, boom di biglietti venduti per la serie Gomorra 3 fa il boom al cinema, il pubblico ha preferito la serie ai vari film in questo momento al cinema. La terza stagione di Gomorra 3 ha già fatto il boom. Ieri 14 novembre hanno debuttato i primi episodi della serie in moltissime sale cinematografiche. Come primo giorno è stato incassato un importo pari a 261.841 euro, infatti la serie è stata preferita agli altri film presenti al cinema dal pubblico. Dal 17 novembre gli episodi saranno trasmessi anche in televisione, su Sky Atlantic HD e Sky On Demand. Nei nuovi episodi, oltre ai protagonisti già presenti nei precedenti episodi, si sono aggiunti nuovi cattivi ed una nuova guerra è iniziata. Il tema si incentra molto stavolta sui figli che uccidono i padri. Sembra proprio che la nuova stagione di Gomorra sia molto diversa rispetto alle precedenti, in molti pensano già che sia migliore. Al cinema hanno debuttato il primo ed il terzo episodio della serie. Al cinema hanno debuttato il primo ed il terzo episodio della serie, il secondo è stato invece saltato temporaneamente. Di certo si tratta di una strategia, infatti in questo modo il pubblico sarà un po' costretto a rivedere entrambi gli episodi anche in tv dal momento che sono collegati al secondo. Il primo episodio inizia con il riassunto dellultimo episodio della seconda stagione. In questo modo i fan della serie potranno riprendere facilmente il filo del discorso, chiarendo anche qualche dubbio. Grazie. Grazie.